Il Consiglio Comunale di Palermo ha approvato il bilancio 2022, un bilancio preventivo che in realtà è un bilancio consuntivo attesa alla crisi complessiva del sistema di autonomia, costrette ad approvare tutte le realtà comunali d'Italia agli ultimi giorni dell'anno. Un bilancio che mette in sicurezza i servizi essenziali dell'amministrazione comunale, che mette in sicurezza gli interventi a sostegno degli ultimi, dei coloro che sono più fragili, che pone le condizioni per non aumentare l'Atari il prossimo anno, così come ho formalmente detto nel corso del dibattito in Consiglio Comunale, che consente di mettere in sicurezza del Teatro Biondo e del Teatro Massimo, ma al tempo stesso consente anche di realizzare tutte quelle opere pubbliche che sono possibili e che si possono realizzare. Un'attenzione particolare al personale, una direttiva con la quale ho disposto che il Segretario Generale e la Regione Generale utilizzino tutte le economie del personale per gli aumenti orari e per le nuove assunzioni dei dipendenti comunali. La decisione di utilizzare l'avanzo di amministrazione per manutenzione degli immobili comunali, delle strade, dei marciapiedi, dell'edilizia scolastica, i cimiteri, piuttosto che dell'edilizia residenziale pubblica. Tutti obiettivi che avevo indicato come propri della Giunta del Sindaco ad apertura della sessione del bilancio e che sono stati fatti propri dal Consiglio Comunale che ha approvato il bilancio, approvando anche alcuni emendamenti che di fatto non hanno spostato in nulla quelle che erano le posizioni che avevo enunciato a nome dell'intera Giunta, ma le modalità in cui questo si è svolto ha creato la reazione, la reazione di un gruppo importante per questa esperienza che è sinistra comune, che non ha partecipato al voto sul bilancio. Questo certamente, al di là del merito possibile e positivo, c'è sicuramente un problema politico del quale tutti dobbiamo farci carico perché la politica non è soltanto merito, ma è anche metodo nell'azione di tutti e di ciascuno. Questo richiama la responsabilità non del singolo consigliere, ma di tutti i consiglieri e di tutte le forze politiche che hanno fino ad adesso concorso a questa esperienza.